Io volevo fare un'osservazione sul valore simbolico di tante cose, i simboli in una guerra contano. La volontà di fare la seconda tornata dei trattativi a Brest, Brest-Litov, ricorderete tutti quanti che lì venne firmata la capitolazione dell'impero zarista di fronte alle truppe tedesche. E' un simbolo, è chiaramente un simbolo, così come fu un simbolo quando Hitler pretese la firma della capitolazione francese sullo stesso vagone ferroviario in cui l'impero tedesco si era reso agli alleati alla fine del 18. E' una cosa molto importante perché con i simboli poi si passano i messaggi alle opinioni pubbliche, si passano i messaggi alle proprie popolazioni e sono quelli che garantiscono un certo supporto. Teniamone conto. Non c'è dubbio, ahimene è così.